Buonasera, ci avviciniamo al Natale con un classico come Schiaccianoci che sarà sicuramente ideale per cominciare a entrare nel clima festivo. Schiaccianoci che per una volta, per chi segue la danza al Teatro Reggio da qualche tempo, non sarà una produzione russa ma uno Schiaccianoci totalmente made in Italy. Un felice repeshage che ha luogo grazie all'intervento di Daniele Cipriani che ha ripreso una produzione di qualche decennio fa, fine anni Ottanta, che porta la firma di Amedeo Modio per la coreografia e di Emanuele Luzzati per scene e costumi. Tra l'altro siamo anche contornati dal segno di Luzzati, quindi è perfetta anche questa sala, un allestimento molto colorato, molto brillante e che sarà un piacere vedere. La compagnia è la compagnia del Daniele Cipriani Entertainment con l'intervento di due etual del New York City Ballet che sono Taylor Stanley e Ashley Bauder. Abbiamo invitato, e la ringrazio che abbia accettato, Silvia Poletti che ci raggiunge da Firenze, è il suo debutto nelle nostre conferenze e siamo felici che ci sia un debutto anche qui. È collaboratrice storica da quando è stato fondato del mensile Danza e Danza, che è anche un portale web molto ricco, ed è anche il critico delle pagine fiorentine del Corriere della Sera, per cui ovviamente tiene conferenze, scrive per tutti i teatri e finalmente anche qui a Reggio di Torino. Quindi un caloroso benvenuto innanzitutto. Grazie, sono felicissima. Dovremmo essere attenti perché Silvia Poletti deve poi riprendere un treno che la riporti a Firenze e quindi non ne tolgo altro tempo. Grazie a voi della ospitalità. Allora, io sono naturalmente onorata di essere qui perché la stagione del Teatro Reggio per quanto riguarda la danza è sempre stata nobile e importante, quindi dovere in qualche modo accompagnarvi all'introduzione di uno spettacolo importante, appunto come lo Schiaccianoci, che apre la sezione danza della stagione di quest'anno, mi fa particolarmente piacere. Quando Simone mi ha invitato, appunto mi ha chiamato, abbiamo cercato di trovare un titolo che potesse funzionare per intavolare la nostra chiacchierata di questa sera. Pensando a tutti gli ingredienti, sia del balletto che vedrete nella produzione di Amedeo Modio, sia soprattutto nella sua genesi, nelle sue ragioni da essere, nel suo destino, una delle cose che ci è venuta in mente è proprio legare il tema del Natale al tema della nostalgia. Infatti la nostra chiacchierata di stasera è intitolata Un Natale in casa a Tchaikovsky, la nostalgia dell'infanzia. Credo che una delle parole chiave per intendere lo Schiaccianoci, più che la festa, più che il gioco, più che la fantasia, nel senso vero del termine, il divertimento, debba essere proprio la nostalgia. E cerchiamo appunto di capire perché. Voi sapete che lo Schiaccianoci in realtà è un successo di ritorno. Che vuol dire? Vuol dire che in realtà questa popolarità incredibile che ha Schiaccianoci, ormai non c'è teatro, non c'è compagnia che non lo allestisca, giustamente nel corso delle feste natalizie, è relativamente recente. Si parla di, saranno 70 anni, che Schiaccianoci è diventato un titolo d'obbligo per le rappresentazioni dei balletto natalizie. Perché? Perché in realtà è stata una grande intuizione di George Balanchine, che voi sapete essere il più importante, probabilmente coreografo legato alla tradizione del balletto che ha avuto il Novecento, che a New York, con il suo New York City Ballet, che è appunto una compagnia che aveva creato insieme al suo sodale il magnate Lincoln Kirsten, decise di allestire questo balletto della sua infanzia per in qualche modo spingere il pubblico a andare a teatro. Perché nonostante che già da molti anni Balanchine fosse in America e avesse creato già alcuni lavori che sono diventati fondamentali per la storia della coreografia, pensate a Serenade, pensate a Concerto Barocco, pensate ai Quattro Temperamenti, il pubblico languiva, il pubblico non andava a teatro e anche la partecipazione della città di New York che aveva voluto che la compagnia avesse proprio il suo nome, l'eponimo della città e quindi in qualche modo facesse parte delle istituzioni cittadine, nonostante appunto la città, quindi il sindaco che all'epoca era anche la guardia, aveva cercato di incrementare le presenze di pubblico magari aiutando uno sbigliettamento con dei biglietti a prezzi proprio popolari, il pubblico non andava a seguire questa grande compagnia e questo geniale coreografo e allora Balanchine pensò di allestire questo balletto che appunto ricordava la sua infanzia e da quel momento l'ha svolta, il balletto ebbe un successo strepitoso, vedremo il perché, e da quel momento nacque la famosa tradizione di cui tutti oggi godiamo e nacquero anche una serie di freddure, per esempio gli americani, voi sapete che poi hanno questo atteggiamento fra lo snob e il battutista, c'erano delle famose battute che di anno in anno si ripetevano sia critici che ballerini, per esempio c'è la famosa battuta di Clive Barnes, un po' macabra devo dire, però era divertente, Clive Barnes era il principale critico del New York Post, diceva anno dopo anno all'apparire dei primi advertising di pubblicità dello schiaccianoci, siamo uno schiaccianoci più vicini alla morte, cioè contava l'avvicinamento della vecchiaia a seconda di quanti schiaccianoci aveva visto. La prima ballerina, Alissa Marcova, molto più chic, anche un pochino più sofisticava, diceva che lo schiaccianoci è inesorabile come l'influenza, tutti gli anni c'è casca e la devi prendere. Che sia per un verso che per un altro, come dicevamo prima, a noi schiaccianoci piace, piace proprio per tanti motivi, anche se, attenzione, come vi dicevo, è un successo di ritorno. forse non tutti sanno che la creazione di schiaccianoci, cioè il momento proprio, l'azione, la realizzazione del balletto e l'esito del balletto alla sua prima, il 5 dicembre del 1892, furono tutt'altro che felici. Anzi, addirittura, non mancò qualcuno di dire che il balletto e la produzione dell'intera serata affidata a Tchaikovsky dal Teatro Marinsky di San Pietroburgo era nata sotto cattiva stella. Lo stesso Tchaikovsky che aveva già creato un balletto importante per il Teatro Marinsky, La Bella Addormentata, che era stato il suo ritorno alla danza, aveva già creato la partitura del Lago dei Cigni nel 76, ma questa partitura non era stata apprezzata, il balletto era stato un fiasco, lui aveva deciso che non si sarebbe più occupato di danza. Poi nel 90, ormai ricco di glorie e di successo, era stato avvicinato dal direttore dei teatri imperiali, Bzevolovsky, e convinto a fare quello che è considerato oggi il capolavoro assoluto del balletto classico per eccellenza, cioè La Bella Addormentata. Tchaikovsky, da un lato, Marius Petipà, il grande maître de ballet, il dominus della Maison pietro-burghese come coreografo, uniti insieme, avevano realizzato un'opera assolutamente imponente. Ma già nella Bella Addormentata, la reazione dello zar, che non dimentichiamocelo, aveva un'influenza molto forte, diciamo, nei destini di tutti i lavori che avvenivano all'interno del teatro imperiale, anche perché tutti quanti artisti e, diciamo, organizzatori, amministratori, erano direttamente rispondenti alla famiglia imperiale, alla casa imperiale, erano impiegati della casa imperiale, insomma, vi dicevo che già La Bella Addormentata, come forse sapete, aveva riscosso un tiepido successo da parte dell'imperatore dello zar. E quindi questa cosa aveva un po' infastidito Tchaikovsky. Nel secondo ritornare, quindi, chiamiamolo così, sul luogo del delitto, creando un'opera che era un'opera in un atto e un balletto in due atti per fare una serata unica, monografica, come gli aveva suggerito Zevolovsky, lo convinceva poco, lo convinceva poco il libretto di questo balletto che era appunto lo Schiaccianoci, non era così convinto del libretto, dell'opera, anche se amava molto la storia, la storia era la storia di Yolanta, la figlia del re René, una storia elegia, lirica, di una creatura cieca che vive in un castello fantastico, era turbato, in più c'era stato un altro sgarbo, gli era stata tolta dal repertorio le rappresentazioni della dama di Picche, che era l'opera che lui aveva realizzato per i Marinski, quindi era fortemente turbato e il suo turbamento lo esprime in molte lettere che mi piace leggervi anche perché si percepisce lo stato d'animo dell'autore che poi noi troveremo nella musica che è diciamo stata realizzata per lo Schiaccianoci. Imbarcandomi nella composizione della figlia del re René e Schiaccianoci, diceva appunto il musicista al direttore, ho la sensazione di quella persona che è nuovamente invitata in una casa il cui padrone ha mostrato chiaramente in precedenza il suo fastidio nell'avermi come ospite. Se lo zar non incoraggia i miei lavori per il bene del teatro come posso lavorare con quell'amore e quella necessaria tranquillità e piacere per questa istituzione di cui lui è il proprietario? Devo scrivere un'opera e un balletto per la prossima stagione, un sacco di lavoro che richiede grandi sforzi e sacrifici. Posso buttarmici a capofitto quando dopo l'affronto al mio ego causato dalla cancellazione della dama di Picche mi aspetto per la prossima stagione manifestazioni ancora più plateali dell'insoddisfazione del sovrano? Quindi già come dire la propensione di Tchaikovsky era fortemente indebolita. In più come vi dicevo il libretto dello schiaccianoci convinceva molto poco Tchaikovsky. Come sapete lo schiaccianoci è lo schiaccianoci di Tchaikovsky risale ad un racconto una novella di Theodor Hoffman del 1816 che però aveva avuto una sua rilettura un po' più favolistica meno oscura meno cupa meno misteriosa e anche in qualche modo metaforica con la riscrittura che aveva fatto Alexandre Dumas per appunto la mitologia della jeunesse che erano una serie di racconti per bambini che erano diventati estremamente popolari in Russia qui vedete il frontespizio dei due del racconto appunto nell'edizione di Dumas e questo racconto quindi era diventato fortemente popolare per il pubblico aristocratico alto-borghese della società russa e Petipat appunto chiamato a dover completare questa serata musicale dove c'era già un racconto nell'opera Yolanta un po' appunto elegiaco mistico intimista e quindi molto diciamo lirico pensava di dover in qualche modo bilanciare il tenore della serata regalando una grande una grande festa una grande diciamo un grande divertissement e la parola divertissement anche qui rientra è una parola chiave Petipat ci aveva abituato proprio alla creazione di numerose invenzioni sia coreografiche che spettacolari nei balletti che aveva creato nel corso dei 30 anni in cui lui era stato direttore e Dominus come vi dicevo del balletto del Marinsky ma in questo in questo balletto in più c'era un altro aspetto che gli piaceva moltissimo che era appunto l'evocazione del Natale l'evocazione di quello che avviene nelle case borghesi alla vigilia della grande festa l'animazione che hanno i bambini la gioia dell'attesa l'incontro con i parenti e poi tutta la parte fantastica incredibile che avrebbe appunto consentito a Petipat di sbizzarrirsi con le regole del divertismo e in realtà quindi Tchaikovsky non sentiva una tensione drammatica e drammaturgica importante per creare il balletto e lo stesso Tchaikovsky aveva scrivendo a Tchaikovsky per cercare di convincerlo diceva di Petipat ci sono delle cose del balletto su cui non mi trovo assolutamente d'accordo con Petipat egli è quello che i francesi definiscono vecchio genere vecchia scuola a tutti gli assolo e le variazioni che ha immaginato per il primo atto sono senza interesse per il pubblico ci vuole un gran ballabile e passi per la prima ballerina e tutte le variazioni per le soliste che stancano la maggior parte del pubblico e qui altro elemento vecchio genere ormai Petipat cominciava ad avere un'età notevole sfiorava agli 80 anni c'era una stanchezza nella creatività tre anni dopo ci sarebbe stato il Lago dei Cigni e con il Lago dei Cigni si sarebbe visto benissimo il contrasto fra appunto il vecchio mondo di Petipat e qualcosa di nuovo che stava succedendo nella danza negli atti bianchi dei Cigni di Levi-Vanov quindi questa sua concezione di struttura appunto a numeri chiusi senza una drammaturgia particolare rendeva ostico come vi dicevo il questa realizzazione a un certo punto però Tchaikovsky decise di accettare la realizzazione e disse vediamo come va e adesso appunto chiedo a Antonio se ci fai vedere la prima foto per cortesia ecco e nella realizzazione della musica cominciò a mettere in scena tutto quello che il mondo la festività il ricordo dell'infanzia e la la gioia di questa festa gli evocava questa è una foto del 1844 48 il primo a sinistra il primo a sinistra è Piotr Ilic la madre Alexandra il padre e gli altri fratelli fra cui la amatissima sorella Sasha per la famiglia la famiglia la famiglia Tchaikovsky era una famiglia fortemente unita di grande affettività e le festività e gli incontri della famiglia rimarranno nell'animo di Tchaikovsky per tutta la vita sentite che cosa scrive Piotr nel 1850 quando purtroppo ormai grandicello a dieci anni è costretto ad andare a frequentare i corsi per diventare presto un impiegato dello Stato è in un collegio e scrive ai genitori la settimana scorsa è cominciato l'avvento e voi angeli miei riferendosi ai genitori starete digiunando come si deve perché in quei tempi felici in cui ero con voi lo facevate sempre ora ricordo con quanta gioia ricevevamo l'albero di Natale da voi invece non potrò essere lì con Sascha Polia Katia o Mina ma almeno ne serberò il ricordo sentite questa ora ricordo con quanta gioia ricevevamo l'albero di Natale da voi il calore della famiglia il calore della famiglia Tchaikovsky vediamo l'altra foto per favore che è quella grazie in questa foto che vede Tchaikovsky lo vedete vestito con la massina sotto praticamente c'è scritto Get Image questa è una foto dove lui è ormai un uomo fatto ed è nella casa di campagna della sorella ma osservate c'è tutta la famiglia e per famiglia si intende la famiglia vera e propria la sorella i nipoti eccetera e tutta la servitù la servitù che faceva proprio parte diciamo dell'habitat e perché ve la faccio vedere? proprio per farvi capire il calore l'unità la vicinanza di queste persone in una lettera di Fanny la famosa governante della famiglia Tchaikovsky a cui Piotr Illich rimarrà legato per tutta la vita sentite la descrizione proprio del calore di questa famiglia racconta Fanny che stava andando appunto a incontrare i bambini che avrebbe poi dovuto seguire e sta facendo questo viaggio insieme alla moglie e alla mamma di Piotr Illich Tchaikovsky e al bambino più grande quanto più mi avvicinavo alla fine del viaggio tanto più la preoccupazione aumentava tuttavia appena a casa bastò un momento per capire che ogni paura era vana un esercito di persone ci corse incontro e cominciarono con gran trasporto baci e abbracci in quella folla era impossibile distinguere i membri della famiglia dalla servitù tutti uguali per una gioia partecipata e assoluta tutti con lo stesso affetto e calore salutavano il ritorno della padrona il signor Tchaikovsky mi venne incontro e senza una parola mi abbracciò e baciò come una figlia non ero appena non ero arrivata ma come la signora Tchaikovsky anch'io ero tornata a casa sentite che calore che vicinanza che amore che affettività questo si ritrova nella prima scena dello schiaccianoci che Tchaikovsky mette in musica ci racconta l'intimità di una famiglia ci racconta l'animazione l'affettività che esiste fra i grandi e i piccini ci racconta i piccoli scherzi appunto che i nonni fanno i bambini i bambini tra di loro e i vecchi bisticci è qualcosa evidentemente che fa parte proprio della cultura russa qualcosa che fa parte diciamo dell'intimità di questo popolo se poi peraltro leggete i grandi romanzi di quell'epoca i grandi romanzi letterari si percepisce come i legami familiari siano forti e terzi e questo si sente proprio nello schiaccianoci nello schiaccianoci nel quale appunto la prima scena è una scena che drammaturgicamente dicevamo è debole ma che è permeata di quella vitalità vi dicevo di Balanchine Balanchine da bambino allievo della scuola di San Pietroburgo partecipa alle prime rappresentazioni dello schiaccianoci partecipa come appunto figurante come bambino in scena e quando nel 54 rimonta il lavoro per gli americani lo rimonta portando appunto quella famosa nostalgia e quel famoso ricordo anche fedele non soltanto alle atmosfere natalizie da lui vissute ma dal ricordo dell'allestimento che Petipa e poi Ivanov che lo asseconda nella creazione gli danno e adesso lo vediamo Balanchine parlando dei suoi natali molto simile a quello che ci racconta Tchaikovsky d'inverno diceva Balanchine ci portavano ad una festa natalizia per unirci a molti altri bambini di Pietroburgo si giocava intorno all'albero di Natale ci scatenavamo galoppando scalciando e saltando come puledri pezzati ma stavamo ben attenti a non inciampare a non cadere per terra perché eravamo tutti vestiti a puntino velluto fiocchi bianchi e colletti di pizzo da un bambino per me il Natale rappresentava l'uscita dall'ordinario lo sconfinamento del sogno e questo sconfinamento del sogno è esattamente quello che noi vediamo allora vediamo il primo il primo estratto del video nel quale vediamo questa animazione questa nostalgia dell'infanzia rappresentata dalla vitalità della scena che ora vediamo questa è la versione di Balanchine chiaramente molto fedele al ricordo della versione Petipa Ivanov rimanendo sempre sulla creazione di questo balletto e sui turbamenti che il nostro Piotr Illich continuava ad avere sentite queste parole Kofitenburg che è voi sapete il palazzo di confetture del secondo atto Cass Noisette la figlia del re René sono convinto che non ne caverò niente di buono né per me né per il teatro come capita spesso con le persone apprensive dalla natura non equilibrata e le cui ferite facilmente si riaprono tutto ciò che ora mi preoccupa assume proporzioni enormi e si trasforma in un incubo febbrile che non mi dà pace né di giorno né di notte queste immagini ora non mi ispirano mi terrorizzano Cechovski l'ansia il terrore la tensione verso il mistero la tensione verso qualcosa che inquieta l'anima fragila di quello che la tata Fanni da bambino chiamava il ragazzino di Porcellana ormai uomo maturo l'anno dopo purtroppo sarebbe come sapete morto comunque dimostra appunto insicurezza e fragilità lo schiaccianoci le mantiene le mantiene in quali personaggi nel personaggio di Drosselmayr questa figura misteriosa che è la figura diciamo lo psicopompo la creatura il colui che tira le fila del racconto è forse un padrino affettuoso che è Clara o Maria chiamiamo la seconda di come viene nominata nei vari balletti crede che in realtà sia invece un mago che domina i sogni e che vuole che lei salvi il suo nipote trasformato in schiaccianoci oppure semplicemente un uomo bonario magari un po' bizzarro che ama giocare con i vecchi meccanismi e creare fantasie se voi ascoltate la musica di Tchaikovsky ma se anche voi osservate come nella modernità ma già anche nel balletto del 1892 questa figura è una figura ambigua noi capiamo e percepiamo anche questo senso di ansia che c'è nel racconto di Hoffman che è trasferito nel balletto ma che è soprattutto assorbito dalla musica di Tchaikovsky se noi vediamo la foto di Drosselmayr che dovrebbe essere la numero ecco guardate qui ci sono alcune foto questa è la prima scena del balletto proprio siamo realizzata nel 1892 qui vedete una foto di scena dei due fratellini che litigano una scena famosissima del primo atto poi vediamo l'altra questa la lasciamo per dopo grazie è questo ecco guardate questo signore questo è Drosselmayr nella nella prima versione la versione del 1892 osservatelo bene perché voi vedete che proprio ha una caratura ha una diciamo una caratterizzazione una tipizzazione che improvvisamente noi ritroveremo viva e vitale innanzitutto la famosa benda nera nell'occhio così come è descritta anche da Hoffman ma lo vedete è una figura di una figura anziana con un fare un po' curioso un po' bislacco no quel modo un po' questo sorriso che è misterioso un sorriso fra l'arcigno e il bonario chi è Drosselmayr non si sa Balanchine sempre ce lo racconta in questo modo amavo appunto vi dicevo da bambino per me il Natale rappresentava l'uscita dall'ordinario come vi dicevo prima lo sconfinamento nel sogno e Drosselmayr diventa un personaggio particolare che ricorda ancora i personaggi che lui incontra nelle festività natalizie della sua infanzia quando ero ragazzino mi piacevano gli adulti che venivano a farci visita ed erano in grado di deliziarci con giochini e scherzi di ogni sorta ecco ora per farvi capire la figura di Drosselmayr vi faccio vedere mi dispiace se il video non è chiarissimo però è un documento interessante è un video del 1958 quindi quattro anni dopo la creazione del famoso schiaccianoci di Balanchine ed è proprio Balanchine che interpreta il ruolo di questo misterioso padrino come vedete questa a parte appunto la squisitezza del documento anche se non era chiarissimo è è veramente una fotografia quasi naturalistica la recitazione l'animazione dei bambini la recitazione veramente naturale di Balanchine Drosselmayr che in qualche modo proprio serve a fotografare questa atmosfera questa atmosfera borghese questa atmosfera fantastica gioiosa che viviamo tutti nelle nostre case più o meno la notte il giorno di Natale la sera di Natale in questo senso quindi da un lato c'era tutto questo aspetto così di rimaniscenze di nostalgia di ricordi dell'infanzia dall'altro lato però c'era l'insoddisfazione di Tchaikovsky di creare appunto qualcosa che non lo convinceva a pieno anche perché come vi dicevo prima Petipas aveva delle regole ferre non transigeva rispetto alla drammaturgia del balletto c'erano delle regole a cui si doveva assolutamente sottostare queste appunto imponevano come voi sapete una serie di divertismano una serie di momenti nei quali appunto si desse molto spazio alla danza uno di questi quale poteva essere quello del palazzo di Kofisenburg il palazzo appunto del dolci dove Clara e Maria Clara e Schiaccianoci arriveranno dopo la famosa battaglia dei soldatini e arriveranno nel palazzo dove avverranno tutte le feste ma perché Petipas insiste fortemente a dare grande spazio a questo grande divertimento sbilanciando la drammaturgia del balletto per un semplice motivo un po' perché era proprio il suo usus componendi cioè lui non era un coreografo drammaturgo lui era un coreografo dei ballè a gran spettacolo era l'inventore per eccellenza di situazioni spettacolari all'interno delle grandi strutture ballettistiche ma anche perché poi era un modo per strizzare l'occhio a quel pubblico pubblico aristocratico e il pubblico appunto alto borghese che frequentava il teatro Marinsky che dopo l'opera czechoschiana in questo balletto avrebbe dovuto rilassarsi e avrebbe dovuto intrattenersi proprio con la parola entertainment giocando di rimandi a cose che andavano fortemente di moda in quel momento a San Pietroburgo per esempio prendiamo per favore Antonio se mi dà una mano la fotografia numero 7 dove c'è il bozzetto del secondo atto ecco allora fermiamoci questa qui questa è una famosissima pasticceria non so se qualcuno di voi è stato a San Pietroburgo presumo di più questa è una foto del 1900 poi c'è una foto che ho fatto io recentemente e quando sono andata a questa pasticceria se non ricordo magari si chiama Elena Elenanski o qualcosa è benissimo la conoscete meglio di me a parte che a Torino è come parlare vero cioè parlare di pasticceria a Torino basterebbe dire la pasticceria qui dietro l'angolo però qualcuno di voi capisce bene perché in qualche modo nasce Schiaccianoci e soprattutto nasce il secondo atto di Schiaccianoci per l'opulenza la ricchezza la fantasia vediamo anche l'altra che ho fatto io scusate colori questo è giusto proprio e poi vediamo invece il bozzetto che è stato creato ecco guardate il bozzetto di Vsevolovski il quale Vsevolovski oltre che essere direttore del teatro era anche un abile un abile disegnatore di scene vedete l'opulenza all'interno dell'opulenza di questa scenografia appaiono tutta una serie di personaggi che noi conosciamo benissimo perché sappiamo che c'è la danza del tè che è la danza cinese poi c'è la danza del caffè che è la danza araba e poi ci sono delle danze che a noi ormai non ci dicono niente ci dicono semplicemente per la gradevolezza della musica per esempio la danza dei mirliton cosa sono i mirliton? i mirliton sono vediamo giriamo questi sono dei sono i mirliton cosa sono? sono una specie di bomboloni fritti con crema devono essere alle fragole che sono buonissimi la nostra fata degli zuccheri così tradotta in italiano ma che in russo e anche in inglese si chiama la fata della prugna della prugna candita sugar plume ma dice ma perché la prugna candita? vediamo quello dopo perché le sugar plumes erano proprio delle squisitezze che si mangiavano a Natale ed erano tipo le praline in realtà non sono prugne ma sono praline ma perché mamma gigon mamma cicogno con tutti i suoi pulcinella in certo punto c'è una scena dove compare una grande figura tipo matriosca con tutti i pulcinella che escono dal fuori dalla sua sottana si rifà ad una vecchia fiaba dei fratelli Grimm e racconti di mamma oca ma si fa si rifà anche ad una famosissima biscottiera che andava di gran moda in quel momento a San Pietroburgo e che aveva proprio le fattezze di questa figura e poi il principe che balla insieme alla regina Sugar Plum il principe si chiama Coqueluche e guardate un po' qua lo sapete chi è Coqueluche? non è altro che uno sciroppo vedete è uno sciroppo per la tosse molto zuccheroso molto buono che piace molto ai bambini e che quindi in qualche modo strizzava l'occhio anche proprio a tutto quello che faceva parte del mondo infantile ecco perché Petipas si ingegnava nell'inventare tutte queste cose e si ingegna non soltanto a dare queste raffigurazioni ma al punto di vista coreografico noi sappiamo che purtroppo appunto a causa anche della sua età si ammala e viene sostituito dal suo braccio destro Levi Vanov il quale segue comunque diktat le linee guida del suo maestro e crea alcuni momenti coreografici importantissimi allora adesso vediamoli vediamo per esempio il passo a due detto così della reica perché il numero dovrebbe essere il numero 4 Antonio mi fa una cortesia mi fa rivedere la foto 7 se si se si può subito vediamo torniamo indietro il nostro sciroppo ecco ok vedete gli stessi costumi vedete la nostra Antonietta dell'era italiana stava sulle punte Anna Salenco più prudente stava non sulle punte andiamo un altro un pochino indietro quella di ancora grazie l'ultimo momento che vi voglio far vedere diciamo della coreografia originale è sicuramente il waltzer dei fiocchi di neve proprio perché qui il genio compositivo coreografico di Ivanov si espresse in maniera straordinaria nella struttura l'idea era proprio quella di creare dei movimenti nello spazio che ricreassero i disegni dei fiocchi di neve e questo lo vediamo in un attimo proprio giusto un assaggio nel video numero 3 sempre dell'edizione di Berlino che rimonta l'edizione diciamo così originale la risposta della critica fu questa prima di tutto lo schiaccianoci non può essere nemmeno definito un balletto non soddisfa neppure una delle esigenze di questo genere di spettacolo il balletto è un racconto mimato e conseguentemente deve avere tutti gli elementi di un'azione tradizionale e poi deve avere spazio anche per le pose plastiche e per le danze che sono gli elementi fondamentali della coreografia classica in schiaccianoci non c'è nemmeno la storia quindi dopo giudizi trancian così voi capite bene che appunto dobbiamo veramente tantissimo a Balancing che ce l'ha riportato e ce l'ha tramandato ma dobbiamo anche ad altri coreografi che ce l'hanno rivitalizzato perché la storia come ho detto è una storia complessa è una storia che voi sapete è legata anche al mito del passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza il sogno di Maria o Clara che si voglia è legato appunto alla scoperta diciamo delle pulsioni alla scoperta dell'altro da sé che può essere appunto il futuro uomo e c'è questa figura misteriosa di questa figura quasi edipica di Dosselmayr che guida e fa veramente da burattinaio e lega i fili della vicenda in modo tale che Clara diventi sempre più grande e più consapevole di sé nella scoperta di sé stessa e dell'amore della vita chi fu il primo a capire che Schiaccianoci non è un balletto solo per bambini come invece avevano detto tutti era stato definito la sinfonia dell'infanzia fu Nureyev Rudolf Nureyev che disse una frase diventata celebre Nutcracker is not a pretty ballet lo Schiaccianoci non è assolutamente un balletto grazioso un ballettino proprio per questa figura fu il primo ad intuire la figura di Dosselmayr e la sua passatemi il termine ambiguità questa sua ambivalenza questo suo essere appunto manovratore e allo stesso tempo tutelare la creatura che stava crescendo lo fece con una versione celeberrima che fu creata per la Scala di Milano e poi diventata importantissima in tutto il mondo anglosassone e poi anche a Vienna e in molte compagnie europee e adesso giusto per omaggiare Rudolf Nureyev la grandezza di questo di questo interprete e anche le sue intuizioni registiche lo vediamo in uno dei momenti più deliziosi del primo atto quando appunto questo seducente bruttissimo Drosselmaier regala lo schiaccianoci a Clara sapete che nella partitura Cekoski mette rumori trombette tamburini canzoni popolari a cantilene c'è proprio veramente questo senso di grande nostalgia ma anche questo grande senso di inquietudine la figura di Drosselmaier veramente la riassume la riassume perché è una figura come dicevamo prima di raccordo fra la fantasia e la realtà fra il mistero dell'altro e la necessità di avere una guida che ti accompagna Nureyev ha aperto la strada della rilettura di questo balletto che ha da quel momento avuto una serie incredibili di riletture anche alle volte particolarmente forti e sempre più diciamo radicali nella lettura diciamo anche della figura sia di Drosselmaier che del balletto ma nel 1989 parliamo appunto della produzione state per vedere voi arriva in Italia con questa nuova produzione di Amedeo Modio è una produzione che fa storia per due motivi il primo motivo è che appunto è affidata all'Ater Balletto l'Ater Balletto era appena nata cioè aveva dieci anni di vita era una compagnia che era nata in maniera indipendente dalle grandi compagnie dei teatri d'opera lo schiaccianoci era tranquillamente rappresentato sia nella versione nureve che in quella tradizionale all'opera di Roma piuttosto che alla scala di Milano l'Ater Balletto era nato nel 79 con l'intenzione di diventare una compagnia di danza indipendente e portare in giro il balletto moderno e contemporaneo con dei grandi maestri che nei grandi teatri d'opera non si rappresentavano la richiesta da parte dei teatri che diciamo sostenevano economicamente la compagnia di avere però un titolo che aiutasse il pubblico a andare a teatro impose a Medeano Dio di affrontare il primo titolo a serata per la compagnia che come sapete era una compagnia piccola aveva 18 elementi a cui vennero integrati poi alcuni ragazzi dei corsi di formazione professionali e due stelle Elisabetta Terabust e Vladimir Derebianco nei ruoli principali perché è importante perché appunto a Medeano Dio da un lato si affianca a Lele Luzzati che contribuisce in maniera fondamentale alla realizzazione dell'aspetto fantastico e veramente immaginifico di questa produzione così radicato con il suo segno che tutti quanti noi conosciamo al mondo dell'infanzia e allo stesso tempo con l'estro creativo della sua fantasia colorata e piena di reminiscenze dall'altro lato però ha anche l'ambizione in quel caso felice di rifarsi ad una rilettura del testo non più come quella diciamo del balletto fino ad allora quella diciamo la vulgata petiviana ma a risalire a Hoffman e questo racconto scuro che come appunto vi dicevo prima può avere anche una lettura psicoanalitica perché nella storia di questa bambina che viene a sua volta viene salvata ma a sua volta salva lo schiaccianoci che è all'interno di un malefizio voluto da un gioco delle parti fra il bene e il male rappresenta veramente questo passaggio dall'infanzia all'adolescenza quindi lui decise di fare un lavoro che aveva da un lato questa apertura alla fantasia al sogno a tutto quello che è l'illusorio ma nel senso bello del termine cioè tutto quello che rappresentava la creatività dall'altro lato aveva questa chiave di lettura un po' intrigante dove nuovamente la figura di Dosselmay aveva il suo ruolo e fra i vari elementi che apporta a questa creazione che peraltro è tradizionale ha un bel linguaggio neoclassico dove appunto si rispettano tutti i cliché del balletto anche però magari rinfrescati nello stile c'è qualche richiamo alla break dance che in quel momento stava diventando molto popolare il nostro Dosselmayr si muove quasi come una marionetta prendendo il moonwalking di Michael Jackson e ovviamente il riferimento alla marionetta è il riferimento sia a Schiaccianoci che al fatto che lo stesso Dosselmayr fosse un inventore un creatore di marionette quindi c'è dei tocchi che oggi in qualche modo noi abbiamo ampiamente digerito nel 89 furono un pochino più innovativi ma quello che ci piace di questa creazione è proprio la perfetta commistione degli elementi visivo danzati e anche appunto narrativi e a questo contribuiscono anche i giochi d'ombra molto belli dell'epoca che erano il teatro gioco vita all'epoca di Piacenza che era una compagnia famosissima per il teatro delle ombre e ora sono fatti da una nuova compagnia che si chiama l'asina non mi ricordo il titolo scusa l'asina sul tetto mi pare non mi ricordo e comunque la compagnia che riprende questi giochi d'ombra supplisce in maniera intelligente ad un problema che una compagnia con poche persone ha cioè le masse per creare la famosa per esempio battaglia dei soldatini che qui viene risolta in maniera del tutto creativa con le immagini dell'invenzione adesso vediamo proprio il primo frammento proprio per farvi vedere l'apparizione di Schiaccianoci ma soprattutto l'allestimento del primo atto del balletto così molto colorato è il minuto 27 per salutarvi perché vi ho dato degli elementi ma ci sarebbe da fare quasi un corso universitario sullo Schiaccianoci chiaramente spero di avervi se non altro incuriosito e ritornando al discorso di qui sopra cioè che lo Schiaccianoci è ormai un successo popolare che appartiene a noi persone del novecento e oltre piuttosto che ai nostri antenati dell'ottocento e novanta che non amarono molto ormai è diventato un assolutamente qualcosa di talmente popolare che si può declinare e si può leggere e riconoscere anche in uno spot televisivo si può fare uno spot televisivo di un prodotto di altissimo consumo parafrasando il balletto utilizzando quindi gli elementi narrativi musicali e drammaturgici del balletto in questo caso la lotta fra lo Schiaccianoci e il re dei topi e raccontando tutta un'altra cosa ma noi che vediamo e che conosciamo il vecchio Schiaccianoci perché tutti nella nostra vita siamo stati a teatro grazie a Banacene a vedere lo Schiaccianoci inesorabile del Natale sappiamo quello che stiamo leggendo e nella meta lettura ci ricordiamo della nostalgia della nostra infanzia e allo stesso tempo però troviamo l'attualità popolare di un prodotto di altissimo consumo ve lo faccio vedere per chiudere e salutarvi e ringraziarvi della vostra attenzione vi do solo due elementi il primo i tre interpreti Yana Salenko che avete già visto danzare nel passo a due dello Schiaccianoci Steve McCrea Tiago Suarez lei Berlin Ballet loro Royal Ballet e le danze sono curate da un giovane coreografo che si chiama Christopher Whedon io direi che è il numero 8 mi sembra di video e con questo grazie a tutti dell'attenzione grazie grazie grazie